musica no vabbè io ho due cose semplicissime perchè anche la prima volta la presentazione come diciamo cosa ne sa questa cosa vuole dire perchè sono molto orgoglioso e presuntuoso e pensavo come di non aver bisogno quello che mi dà molto fastidio che uno mi fa notare quello che non so quello che non sono capace di fare però so di non saper far tutto e riuscire a fare questo corso mi ha bloccato perchè mi ha fatto vedere quante cose non ero capace di fare ma con poche cose posso essere riuscito a fare ti ha reso più umile no? più umile perchè so che posso migliorare tante cose e anche che ogni barriera come può essere operata con degli strumenti che se non sai che esistono ti sembrano impossibili il fatto di imparare i nomi delle persone semplicemente oppure si ricorda di memorizzare o organizzare o andare oltre i propri limiti così organizzativi o sapere che c'è qualcos'altro insomma io che sono molto razionale e che faccio tutte con le mie forze se ce la faccio, se non ce la faccio non ce la farò mai vuol dire che non si può fare se non ci sono arrivato grazie 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 a tutti.